segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tant'è che c'è anche un rischio di quanti costituzionalità su questo intervento che tocca un settore solo e non gli altri la bce devono riscrivere appunto detto è stata scritta molto popolare perché molto popolare però confondiamo popolare populismo poi si fa in fretta se uno va a guardare io sono favorevolissimo invece sei favorevole alla tassa sugli extra profitti delle banche favorevolissimo quadruplicandola perché adesso si è già ridotta un miliardo sono 10 miliardi di capitalizzazione in meno in questo periodo di tutti i gruppi che hanno lucrato in questi anni assicurazioni 10 miliardi di capitalizzazione e l'abi che ha detto se magari si fosse fatto un qualche cosa di condiviso si poteva trovare una soluzione poi non è che le banche siano dei benefattori del mondo vabbè tanto con loro è così però centrano le banche dovete tassare la farmaceutica dovete tassare amazon dovete tassare questi che sono 4 miliardi bravo cacciare esattamente questo tutti gli extra profitti in debiti di questi anni beh con l'appocottino aumento dei tassi hai voglia gli extra profitti che hanno fatto e piangono per 3 miliardi non si capisce niente se parlate solo vedate sulla voce sono state le grandi corporation che agiscono sul piano internazionale quelle quelle quelle